Ora risolto. Edson Arantes Donascimento è probabilmente il miglior calciatore di tutti i tempi. Lo abbiamo incontrato negli Stati Uniti dove ha assistito al sorteggio mondiale. Pelé ha rilasciato questa breve intervista esclusiva al collega vice domini nella quale parla del suo rapporto con Avelange, presidente della Federazione Internazionale del calcio brasiliano, di Baggio e delle possibili sorprese del prossimo mondiale. Ascoltiamolo. Essere in platea e non sul palcoscenico di Las Vegas non ha cambiato certo la mia vita perché appartengo sempre alla grande famiglia calcistica della FIFA. La mia vita non cambia se pesco una pallina all'urna. La mia esclusione non è una decisione della FIFA bensì una decisione personale del presidente Avelange. Lui è il mio capo e non posso che accettare le sue decisioni. Non c'è una guerra personale tra me e il presidente. Io dipendo dalla FIFA. Avelange è stato sempre mio amico e il mio idolo dal 1958. So che gli devo molto. Ma oggi la gente deve sapere che io sono contro la federazione brasiliana. Io non posso accettare la corruzione che in Brasile è molto diffusa anche nello sport e soprattutto nel calcio. e la colpa di questo disastro è tutta della cattiva organizzazione della federazione. Io non posso accettare ciò. Sia che Avelange condivida o meno la mia scelta. Baggio è un eccellente giocatore da molto tempo. È la prima volta che gli attribuiscono il titolo di primo giocatore d'Europa e del mondo. Ma non è una novità che sia un fuoriclasse. Non penso comunque che Baggio sarà la novità di USA 94. I giocatori più sorprendenti saranno due brasiliani che giocano in Europa, Romario e Bebeto. Grazie a loro il Brasile tornerà competitivo e potrà puntare al successo. Merry Christmas, Happy New Year for everybody. E agli auguri di Pelé uniamo i nostri. Buon Natale da tutto il TG1. Buonasera. Ciao mamma! Ciao! Ho una fame! Peperlizia. Tanti buoni contorni subito pronti per dare ai tuoi piatti più gusto e delicatezza. Ecco, l'arrosto con le cipolline! Peperlizia Ponti. Il contorno firmato. Egon! Sì, dottor Jekyll? Una caramella subito! Questa è buona! È frutto balsamica. La nuova balsamica al gusto d'arancio. Ma è buona! E mi fa sentire un altro! E ci sono anche al limone! La frutto balsamica che fa gola. Chichi rikichi rikichi! Ho seguito una risata su una tavola stonata. Acchiappato per la gola mi son detto qui cipolla. Il galletto era il motivo. Scudetto rosso kikiri kikiri. Il galletto balle spluga kikiri kikiri. Il galletto balle spluga canta dalle tavole italiane. L'altro giorno sono andato a casa di Marco che non c'ero mai stato prima. Era una casa piena di robe strane. Allora pensavo, boh, chissà qui cosa mi daranno da mangiare. Poi ho visto che anche la mamma di Marco fa come la mia. e usa sottilette kraft che loro, secondo me, sono buonissime. Allora ho detto, sono salvo. Sottilette kraft, sapore senza eguali. Kraft, cose buone dal mondo. Peugeot 106 Kid Nata con la stoffa Tuo da 13 milioni e 500 mila lire, Gis compreso. La chiesa ci chiede più offerte deducibili. Nel 92 solo 180 mila persone in Italia hanno risposto all'appello. Perché così pochi? Il sostentamento dei 38 mila sacerdoti impegnati nelle parrocchie dipende in gran parte dalle offerte deducibili. Facciamo crescere la partecipazione. Di molto. Fa la tua offerta con il bollettino che trovi in chiesa o alla posta. È deducibile con la dichiarazione dei redditi. Attento! La mia frutta! Comunque lo guardi, il bollino blu è solo sulla migliore. Grazie. Cicchita, 10 al 9. Ciao mamma! Ciao! Ho una fame! Pepperlizia. Tanti buoni contorni subito pronti per dare ai tuoi piatti più gusto e delicatezza. Ecco il pollo con le verdure! Pepperlizia Ponti. Il contorno firmato. Piedro, sei pronto. Seguro, Rocco. Oh, Jingle Bell, Jingle Bell, che felicidad. Si divertiremo incienze non cambierete. Jingle Bell, Jingle Bell, che felicidad. Si divertiremo assai stando con la RAI. La, 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 la... Ma c'è! Ma ma c'è! Ma ma c'è! Ma ma c'è! Mimba, che ti è successo? È la buccia di banana! Chissà chi è l'assassino che ce l'ha messa! Noi! Noi! E ne abbiamo tante altre! Mimba, voi volete fare scivolare tutta l'Italia? Esatto, una trasmissione per l'Italia che scivola. Valeria, vuoi dire tu il titolo? Certo, saluti e baci. Scusate, bucce di banana. Bucce di banana, bucce di banana. Qualcuno prima o poi ci mette in piede e fa uno scivolone e poi si siede. Bucce di banana, bucce di banana. E tutti intorno a ridere e a grigare. Guarda che sederata quello là. Bucce di banana. Tra qualche minuto trasmetteremo il film La spada nella roccia. I sottotitoli sono alla pagina 777 di Televideo. Io vi auguro una buona visione e a più tardi. Scommettiamo che Sabato 20 e 40, Rai 1 Non riesco a dormire. Che faccio? E pensa. A cosa? Se fossimo abbonati in Rai, avremmo cinema, radio, teatro, mostre, anteprime. Dimmi che non è vero. E dormi. Un abbonato ha sempre un posto in prima fira. Lo sanno anche i sassi. Tutti nozano Theo Miagano e Valtero. Un abbonato ha sempre un posto in prima fira. Ehi, la domenica ci aspetta Per chi parte e per chi resta Con un viaggio nella testa Con voi ormai Arpitù Buon anno di vacanze per voi Con Arpitù Ehi, ciao! Pssh, pssh, pssh Mamma! Scottex, 10 piani di morbidezza Nella versione bianca e rosa decorer E ora c'è una grande novità La nuova confezione 10 rotoli salvaspazio La morbidezza compatta nel nuovo rotolo Che premi e torna tondo Scottex, 10 piani di morbidezza Anche nella confezione salvaspazio Mamma! Felix Felice Natale con Felix Mammina, domani non posso danciare Non riesco a respirare bene La mia ballerina è raffreddore Ma la mamma sa cosa ti aiuterà a star meglio Vicks Vaporub, ricordi come fanno bene i suoi vapori? Uno, per aiutare a liberare il naso Due, per alleviare la tussa Tre, per dare sollievo alla gola irritata Così sarei meglio in fretta E adesso sogni d'oro ballerina Sollievo è amore e Vicks Vaporub È un medicinale usare con cautela A tuo figlio non dare un biscotto comune Dagli Plasmon, più proteine, più vitamine, meno grassi Il biscotto Plasmon nasce qui, nell'oasi ecologica Solo dal grano Plasmon Plasmon, il biscotto giusto per diventare grandi Plasmon Io canto e tu Impossibile non provare voglia di cantare Io canto e tu Una fantastica raccolta di 15 canzoni Completa di tutte le basi pre-registrate Io canto e tu Disponibile su musicassetta a prezzo speciale È una proposta Fonit Cetra Bonetti Dai, abbassa State mo' bonini, che inizia Buonasera, Unibon vi dà il benvenuto ai Gioco delle rete Ragazzi, che mortadella Passiamo in un'altra fetta Gradisca Vincitori E Giacomo Bonetti Bonetti, la tua signora ti ci lascia andare ai mondiali? Ma se ci va anche lei in America Gente, stasera Ma se la casa Gusta Unibon, puoi vincere i mondiali